Consiglio Comunale a Casa Miccio, l'architetto Mennella, di cosa avete discusso? Abbiamo discusso principalmente del riequilibrio, se parliamo degli argomenti all'ordine del giorno, poi ci sono stati i vari interventi sulla scuola e su altre problematiche che esistono nel paese, anche attraverso l'intervento delle mamme che si sono fatte sentire per quanto riguarda le problematiche del Manzone e del San Severino. Il Consiglio Comunale è stata una cosa bilente, le devo dire la verità, perché mi sono reso conto dopo anni di non avere delle interlocuzioni in grado di poter portare avanti la fattiva amministrazione del paese. Il sindaco e gli assessori non sono in grado di amministrare il paese. Questa delibera di riequilibrio che è stata preparata anche da consulenti importanti certamente ha tutta una serie di lacune, che io ho evidenziato in Consiglio Comunale, delle cifre che non rispondono alla verità. Sono state fatte esclusivamente per cercare di risolvere la problematica presso la Suprema Corte dei Conti che dovrà emettere il verdetto dopo il 19 ottobre. Quindi l'intervento, questa delibera, serve soltanto a cercare di evitare che il Comune vada in dissesto. Ma ci sono tutta una serie di numeri che non corrispondono e di cui noi abbiamo chiesto lumi all'amministrazione, ma non sono stati in grado di spiegare niente.